RISPARMIAMOCI Risparmiamoci questa pantomima, Detective. Non è dignitoso. Dimmi quello che voglio sapere e morirai con onore senza tutta questa sofferenza. Qual era la tua missione? E che cosa sanno di Lazarus? Prima di parlare di dignità aspetta di vedere che cosa ti farò. Sai una cosa? Sei proprio come tua madre costretta a vivere in un mondo che non ti appartiene. Tua madre ha pagato con la sua vita e ora tocca a te. Ma prima... Devi dirmi quello che voglio sapere. So che ti bruciano i polmoni. Riesco a percepire la tua paura. Voi solo che tutto questo finisca e ti prometto che presto finirà. Dammi soltanto le informazioni che voglio. Pulisci qua dentro. Trova una fossa in cui seppellirla dove nessuno potrà mai trovarla. Alla prossima!